buongiorno ragazzi e ragazzi oggi vi mostro 5 prodotti di pulizia che non possono mancare in casa per me il primo prodotto è questo pulitore universale multisuperficie idoneo per vetri, specchi, metalli, ceramica e tanto altro mi trovo molto bene con questo prodotto e non posso farne a meno anche perché non lascia loni e con facilità rimuove ogni genere di sporco con questo prodotto riusciamo a semplificare le nostre pulizie per questo mai più senza secondo prodotto di pulizia per me indispensabile è l'alcol denaturato etilico a 90 gradi perché ci possiamo pulire diverse superfici e creare diverse miscele e anche disinfettare le superfici un altro prodotto di pulizia per me importante è uno spray antistatico per pulire diverse immobilie un altro prodotto mai più senza è il mio amato aceto di vino cipulissimo non riesco di tutto è un anticalcare per l'eccellenza lucida ogni tipo di superficie lo utilizzo anche per la pulizia dei mobili della cucina inoltre elimina i cattivi odori ed è un ottimo igienizzante grazie io commenta ma è un altro perché ed infine un altro prodotto mai più senza è un detersivo per pavimenti senza risciacquo che lascia un gradevole profumo e riesce a far venire dei pavimenti brillantissimi guardate il risultato dei pavimenti lucidissimi ben puliti e privi di aloni a questo punto concludo il video per me questi sono i prodotti indispensabili che non devono mai mancare per la pulizia della nostra casa lasciatemi un like per sostenermi e iscrivetevi al canale ci vediamo molto presto con un nuovo video